Preghiera della Sera Signore Gesù Cristo, perdona a tutti noi che non Ti ascoltiamo che in parte, e che in parte cerchiamo i nostri interessi, le nostre idee e la nostra gloria. Perdona a tutti coloro che volontariamente si allontanano da Te. Ritrova, Signore, coloro ai quali abbiamo presentato un'immagine terrificante di Te, non essendo stati testimoni del tutto credibili. Resta sempre con noi. Amen.